Ciao ragazzi, sono prima del Marullo e oggi sono su Sharknado di videogame muore squadra muore anche tu è pure tu andiamo avanti, non giuro lo faccio il segno surf si fa e adesso signori accedere a mescolare con la motosega muori tutti qui te a tua sorella a mamma sora patate cucine mamma mamma